Mi dai un bacino, mi dai un bacino, mi dai un bacino, hanno paura, hanno paura del video, della luce, ah c'è la luce è vero, ma poi tanto ti senti di qua, mamma che meraviglia, se vuoi la libero la vedi che volano le cose, e ho paura, Allora no, se ti hai paura, no, mamma che, ma questo qua di dove è? Cosa? Questo qua? E paga anche lui, eh, amore ciao, ciao, come ti chiami? Perché c'è la luce, ciao, Ornella, Ornella, ciao Ornella, come ti chiami? Amore, amore, Ornella, 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 ciao, ma poi non sono abituata, questo è il limoncello fatto da me, allora io sono qua in diretta, Gege Show Palco, con chi fare, sempre con tuo babbo? No, adesso questa è la mia trasmissione che è il mio canale, si chiama Palco Gege Show, saluta, dico che sei, ciao, io sono con Gege, Da quanto tempo mi aspetti? 15 anni, sono 15 anni che aspetto la visita di Gege, finalmente è arrivato, per i 40 anni di mio figlio, è venuto. E dili che avevi preparato tutto, sì, avevo preparato, non so se era la pasta al forno o gli gnocchi fatti a mano da me, sugo, rabù, secondo, meno, la torta, doveva venire, aveva perso il treno, veniva con la macchina, ma poi l'amica con chi doveva venire, non so che impegno aveva avuto. Per lei, tutto palco, di palco, 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 sì, che vuol dire? Il nome della trasmissione, palco, 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 devo dire palco, sì, tutto c'era palco, tutto palco, non so, ma che so, in diretta? Ciao, ciao a tutti, ora offro un limoncetto a Gege. Adesso siamo in Toscana con una famiglia di uccelli, una roba pazzesca, hanno paura della luce però parlano.